Maurizio Lupi, tra le tante cose che potremmo chiedere, perché ci capisce e segue questi temi da anni, rispetto a otto anni fa, nove anni fa, mi pare che qualcosa sia migliorato, ci mancherebbe. In realtà molto resta da fare, però nel mondo forse siamo andati, abbiamo recuperato un po' di posizioni. Grazie anche a delle strategie impostate allora e grazie sicuramente anche allo stress senza precedenti che l'Europa ha affrontato per la prima volta, perché alla fine del PNRR, il tema della sostenibilità, c'era stato uno schiaffo che ci ha un po' svegliato tutti. Che bilancino vorremmo, perché comunque sei ancora uno dei più competenti in materia, quindi prego. Intanto grazie a Marcello, grazie a Guido, che come sempre vogliono coinvolgermi in questa avventura che è nata pochi anni fa, ma che ha già, mostra che l'intuizione, io lo dico sempre, è stata ed è un'intuizione giusta. Come sempre la realtà parla più delle opinioni e la realtà qui è una realtà che non solo vede 2.200 aziende associate, ma vede innanzitutto un'idea di futuro. Ed è la risposta alla tua domanda, cioè noi non possiamo continuare ad essere legati ad un passato. Il passato è ciò che ci permette di affrontare, vivendo il presente, di costruire il futuro. Se c'è una debolezza della classe dirigente politica, della classe imprenditoriale, è di dimenticarsi le proprie radici, la propria cultura. Tu lo sai bene, perché tante volte ne abbiamo discusso. Ma questo deve obbligarci a capire le sfide nuove che noi abbiamo. Ed è vero che tanta acqua è passata sotto i punti. Ricordavo prima con Marcello di Caterina, c'è qui il dottor Baldissarra, eravamo a Stresa, tanti tanti anni fa, ad una piccolissimo, perché era quella la dimensione che era data alla logistica, alla portualità, alla intermodalità, a convegno autorevolissimo e europeo. E discutevamo di queste cose. Oggi non è più così e dobbiamo smetterla di piangerci addosso, ma dobbiamo anche capire quali sono le sfide davanti. Primo, l'importanza dell'intermodalità e della logistica, anche qui è stata determinata da realtà. Il Covid ci ha sbattuto come in faccia che le intuizioni che avevamo, non si può più ragionare a compartimenti stagni. Guardate che la logistica, il trasporto delle merti, l'intermodalità sono strategici per il futuro di un Paese, non sono una nicchia di cui qualcuno se ne deve occupare. E Alice ha avuto questa grande intuizione della trasversalità, non della verticalità, ma della orizzontalità. Secondo, non piangiamoci addosso e aspettiamo che la politica risolva i problemi. o ritorna ad esserci una coscienza da parte della cosiddetta società civile. Le imprese, poteva ognuno farsi continuare a farsi i fatti propri e andare singolarmente. Credo che il gruppo Grimaldi avesse la forza e la potenza, ovviamente per poter far valere le proprie ragioni. Eppure c'è stata una coscienza diversa. I corpi intermedi cosiddetti sono fondamentali se iniziano anche loro a capire qual è la sfida del futuro. La politica ne ha preso atto. Oggi parlare delle autostrade del mare è diventato una cosa fondamentale. Non è più l'intermodalità. Prima l'assessore all'infrastruttura del Veneto faceva un esempio e parlando di quell'esempio si è accorto che solo grazie alle intermodalità, alla logistica e alle infrastrutture che si costruiscono che le barriere sono superate. Parlava del polo del nord-est, del polo del nord-ovest. Genova è il porto della Liguria o è l'intero porto che attraverso poi il terzo valico guarderà e sfiderà tutta la competitività dei mari del nord e quindi del nord Europa? È l'intero porto di un'area che si chiama nord-ovest che comprende la Lombardia, che comprende il Piemonte, che comprende appunto la Liguria. E altrettanto Venezia e Trieste, che cosa sono? E Verona come luogo della logistica. Non a caso credo che Guido e Alice abbiano scelto Verona come luogo dove fare questa fiera. Non solo perché può essere simpatico o non simpatico, ma perché qui è oggi il principale luogo della logistica che già nel passato ragionava in maniera diversa. Allora, concludendo perché ha detto che saremo tutti brevi, io credo che tanta acqua sia passata sotto i ponti, credo che il PNRR, lo citiamo tutti, sia una grandissima opportunità ad una condizione, che la smettiamo di pensare che il PNRR sia una discussione, ma che lo utilizziamo fino in fondo per attuare questa visione, costruire questa visione del futuro dell'Europa, con un nota bene. tirare fuori solo i progetti, le risorse sono importanti, ma le risorse vanno date bene e vanno date con un criterio. Io credo che noi, abbiamo visto questa esperienza, è il 110%, dobbiamo curare fino in fondo le nostre risorse e sapere che si danno come moltiplicatore. Un euro pubblico deve diventare un moltiplicatore di risorse private, ed è la richiesta che sempre Alice fa, quando Alice parla di bonus mare, cioè non è che parla di un assovvenzionamento, dice guardate che se mi mettete 5, io vi restituisco 100. Se noi non capiamo questo e pensiamo che il punto sia l'assistenzialismo, non abbiamo capito assolutamente nulla. Così come io continuo a dire, e l'appello che faccio qui da Verona, è che, attenzione, le grandi aziende, anche quelle, o l'indirizzo dei ministeri, eccetera, anche quelle che andremo a rinnovare, o ritornano ad avere la coscienza di sviluppare una filiera industriale, oppure non hanno un senso che rimangano, perché se ha senso che ci sia, penso a Ferrovie dello Stato, penso al tema della logistica, non è che credo, lo dico perché dico sempre quel che penso, tanto ho un buon rapporto, che Ferrovie abbia bisogno di fare un polo della logistica prendendo un partner e decidendo che quel partner, chiunque esso sia, diventa il monopolio della logistica delle merci, perché così non funziona. Ferrovie deve avere una coscienza che anche nelle merci deve sviluppare una filiera industriale, fatta di piccole, di medie, di grandi imprese, senza strozzarle, perché oggi io mi spavento quando leggo e concludo veramente bilanci di grandi società dello Stato, ogni riferimento per esempio a Leonardo è puramente casuale, che poi però se vai a vedere nel coso è morta la filiera industriale, li hai strozzati con i prezzi, hai fatto degli appalti che non hanno nessun senso. Allora, Leonardo deve continuare a svolgere la sua funzione, ma noi dobbiamo avere una visione e qui credo che il Ministero abbia e la politica debba tornare ad essere protagonista, ma qui a Dali in questi giorni avete avuto una politica protagonista, l'interlocuzione corretta con le istituzioni vi porta anche a portare le vostre proposte e a dire la politica faccia quello che deve dire. Comunque grazie ancora per avermi invitato.